Statisticamente è una web series che porta la statistica nel nostro quotidiano. Vi siete mai chiesti quale sia la città italiana con la più alta concentrazione di dentisti? È Genova, con 11,65 dentisti ogni 1.000 abitanti. L'Italia è il primo paese per numero di riconoscimenti doppi GP STG conferiti dall'Unione Europea. La parola WhatsApp è citata nel 50% delle cause di divorzio in Italia. La VAR fa bene a calcio. Gli errori sono crollati fino allo 0,89%. I calci di rigore non visti e successivamente assegnati sono stati pen 59. Con le domeniche gratis nei musei, in media aumentano anche i paganti. Non siamo più un popolo di inventori. Di 68.421 brevetti registrati in Europa l'anno scorso, solo 2.476 sono italiani. Analizzare il mondo attraverso i numeri è importante, perché i numeri non mentono mai.